Parliamo dell'uomo di Setubal, di Giuseppe Mourinho, che anziché gioire dell'imperesa di aver battuto il celsi di Carlo Ancelotti, se l'è presa ancora una volta con il nostro sistema, con il sistema calcio. Ascoltiamolo. Quanto a quello che è successo a Firenze, io non ho visto, però mi hanno detto che non è diverso da quello che è successo a Bari. Io ho sentito una parola, o qualche parola nuova per me, nel mio deficiente italiano, che è dobbiamo abbassare i toni, non è così che si dice? Dobbiamo abbassare i toni, abbassiamo i toni, è stato così che voi italiani avete costruito una storia che a me come professionista di calcio, che a me come persona che guadagna la sua vita nel calcio, mi ha fatto una vergogna terribile, perché io in quel momento lavoravo in Portogallo, però quando ho saputo del calciopoli mi ha fatto vergogna mangiare e dare di mangiare la mia famiglia con soldi del calcio, però adesso abbassiamo i toni, non parliamo di niente e dico ancora una cosa, io arrivo in Italia onesto, escerò d'Italia onesto e oggi chissà c'è un rigore contro di noi. Va bene, abbassiamo i toni, ma ricordiamo una cosa, a quanto pare tutto il mondo è paese e le magagne le ha avute anche il calcio portoghese con una vicenda che ha visto protagonisti, pensate un po' chi sono questi protagonisti, i due club di Oporto, Boa Vista e Porto, Porto vi dice qualcosa? Tutto è partito da alcune indagini sui campionati minori dove pare ci fossero dei casi di corruzione di arbitri. L'indagine venne denominata Apito Dourado, tradotto fischietto dorato e ben presto fu allargata all'intero calcio portoghese, serie A compresa. Attenzione, si scoprirono quindi delle anomalie a grandi livelli concentrate esclusivamente nella città di Oporto dove le due società facevano il bello e il cattivo tempo chiedendo designazioni favorevoli. Il campionato in questione è quello del 2003-2004 nel quale il Boa Vista avrebbe corrotto un arbitro prima della partita contro Benfica aggiustando poi altri due incontri. Amici sportivi, qua non siamo in Italia. Mano pesante da parte del giudice, dunque è sentenza inappellabile Boa Vista in serie B come fu per la Juventus nel 2006. Meno gravi, se così vogliamo dire, le responsabilità del Porto che avrebbe tentato di aggiustare due incontri sempre nel corso della stagione 2003-2004. Domanda, chi era quell'anno l'allenatore del Porto? Lo sapete meglio di me, Giuseppe Mourinho. La vicenda terminò con la penalizzazione di sei punti e con il presidente del Porto, Nugno Pinto da Costa condannato a due anni di squalifica e al pagamento di 150.000 euro per il tentativo di corruzione accertato e acquisto anche di favori sessuali. Prima di parlare dunque di accusare l'Italia che è il paese nel quale lavora e che gli garantisce davvero uno stipendio da capogiro. Ricordate che qua si parla di una cifra che si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Forse non dovrebbe soffrire di queste gravi amnesie, signor Mourinho, se vogliamo chiamarle così, prima di sputare il veleno. Però c'è un altro aspetto sul quale vorremmo soffermarci, perché il presidente sempre del Porto brigò anche per evitargli una stangata per le minacce in campo al giocatore Rui Horge, se la cavò con una squalifica. Vogliamo anche entrare nel merito di questa vicenda che sicuramente non gli rende onore. Tra le intercettazioni telefoniche annesse al processo Fischietto Dorato tra i dirigenti del Porto ce ne sono alcune che ricordano l'episodio del 31 gennaio 2004. In campo Mourinho insulta il giocatore Rui Horge dicendogli che gli sarebbe piaciuto che fosse morto in campo dopo l'incontro del 31 gennaio 2004. Le conversazioni tra i dirigenti dei Dragoni dopo il match nell'Albade indicavano le pressioni esercitate presso la Lega affinché Mourinho non fosse punito. I protagonisti sono Pinto da Costa, ovviamente il presidente del Porto, Enrique e Caldeira, i vertici del club. Le trascrizioni risalgono i giorni che seguirono agli incidenti fino al giudizio che ha portato alla squalifica di 10 giorni e 3 mila euro per Mourinho. Per fare pressioni su Valentin Loriero, presidente della Lega Calcio Portoghese, Pinto da Costa è arrivato a simulare una ribellione di giocatori che minacciavano di non giocare il superclassico contro il Benfica nello stadio da Luz. Durante quei giorni i dirigenti si sono adoperati in conversazioni molteplici e la punizione della disciplinare della Lega Portoghese finì per essere abbastanza inferiore a quello che loro stessi hanno ammesso. C'è uno che ha detto così, un personaggio famoso, famosissimo. Non guardare mai la pagliuzza mentre hai la trava nei tuoi occhi. Ecco Luca Pasquaretta, hai la conoscenza di questo apito d'Urano? Musica per le orecchie di chi come me crede che Calciopoli in Italia sia stata una buffonata. e per me è un dato di fatto, l'ho sempre sostenuto, queste sono purtroppo, ahimè, è un dato di fatto che il mondo del calcio non è un mondo per educande, non è un mondo per moralisti, non è un mondo dove l'etica trionfa su tutto, è un mondo dove l'abbiamo visto tramite le intercettazioni, tramite il modus operandi, anche Moratti che si è messo a chiamare Abete dopo… Mi hai detto bene, sono un allenatore, io sono una persona di calcio, una persona sportiva e quindi mi piacerebbe che gli addetti ai lavori parlassero solo di calcio e non come Morigno che parla di tutto meno che di calcio e qui dovrebbero intervenire gli organi federali a dare squalifiche pesanti, pesantissime, così la smettono di parlare di altro e dovrebbero parlare solamente di calcio, gli ho detto i lavori. Quindi secondo te Morigno è scivolato sulla classica buccia di banana a suo giro? Ma scivola sempre. Come altre volte. Se ne fosse stato l'Inghilterra con il gesto di le manette, sicuramente lui prendeva 10 giorni. Gli organi federali dovrebbero intervenire a dargli delle squalifiche… Secondo me un altro paese prendeva di più. Ma Morigno voleva dire che sta partita finisce in pareggio. Pasquaretta. Il rigore negato, il fallo non dato, tutte le squadre hanno da recriminare qualcosa, quindi alla fine la classifica è veritiera, è inutile andare a recriminare o a protestare con l'arbitro, con i giornali e portarla avanti tutta la settimana, le polemiche sono praticamente inutili. Ma non se ne può più davvero, caspita. Qui dovrebbero intervenire, come ripeto, gli organi federali dalle squalifiche sensazionali, gravissime, pesantissime, così vedrete che la smettono di parlare di cose che non Parli male dell'Italia, quando percepisci un stipendio di 14 milioni di euro, ma stiamo scherzando, ma minimo di morale, ma rispettiamo anche i cassi integrati, gente che non ha un lavoro, ma insomma… Cioè Giancarlo, la cosa inqualificabile che a me ha dato… O l'Italia che ti dà uno stipendio così… E ha fatto riflettere, è stato… Sì, Moratti, ok. E Moratti, non confondiamo l'Italia con Moratti. La Saras che non sta andando neanche benissimo. Non confondiamo l'Italia con Moratti, fortunatamente sono due cose diverse. Morigni ha detto che non è un pirla. Il problema è che, la cosa mi ha fatto ribrezzo, è vedere sul sito dell'Inter, la sera, il giorno dopo, la partita con la Sampdoria, che ha attaccato e ha definito comunque inqualificabile l'arbitraggio di… Trefoloni… Trefoloni… Tagliavento… Tagliavento, pardon. Ed è stata veramente incredibile la cosa che dice, perché l'abbiamo visto tutti. Le discussioni erano giuste. Cioè, erano giusti, cioè, e il problema sta proprio lì, che questi signori hanno fatto terra bruciata intorno a loro negli anni con Calciopoli, nel 2006, eccetera, eccetera, e credono comunque di essere i padroni del calcio. Non è così, perché comunque la realtà è ben diversa e bisognerebbe, come dice Morigno, ma non per prendere in giro gli altri, abbassare veramente i toni. Bene, abbiamo già dedicato fin troppo tempo al signor Morigno.